Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa, lasciate il colle fuori dalle beghe, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul caso Lega Quirinale, la politica estera con la guerra in Medio Oriente, caute aperture tra Israele e Hamas, sembra più vicina un'intesa per la tregua. E poi subito esaurito l'eco bonus per l'acquisto di auto elettriche, gli incentivi sono finiti in poche ore, sono queste alcune delle notizie che troviamo sulle prime pagine dei giornali e certamente all'interno dei giornali oggi, martedì 4 giugno, come di consueto cominciamo la nostra rassegna stampa dalla lettura della prima pagina del Corriere della Sera, frenata di Salvini sul Quirinale, questo è il titolo principale, dopo le polemiche il Senatore Borghi straconferma la richiesta di dimissioni, conte un attacco indegno per Meloni e la sinistra che non rispetta il colle sul premierato, se perdo non lascio, ha detto la Presidente del Consiglio. Polemica con il Quirinale, la Lega raffredda la tensione, frenata del Ministro Matteo Salvini, interviene anche la Premier Giorgia Meloni che punta il dito contro la sinistra, sono loro a non rispettare il colle, ma il Senatore del Carroccio Claudio Borghi rinfocola la polemica e straconferma la richiesta di dimissioni di Mattarella. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte parla di attacco indegno, sempre sul premierato, Meloni garantisce che anche in caso di no resterà al suo posto. Oggi il Corriere propone l'intervista a Tagliani, noi europeisti sono solidale con Mattarella, ha detto il vicepremier nonché Ministro degli Esteri e poi Noeuro, Novax, Borghi e l'ascesa nel Carroccio. Fabrizio Roncone traccia il profilo del fedelissimo del leader a centro pagina. Lo sport, il tennis infortunio, rimonta impresa, Djokovic campione indomabile. Il serbo acciaccato vince in 5-7 a Parigi, oggi è in campo Sinner. Nole Djokovic resta aggrappato al primo posto dopo una partita che ha rischiato di perdere per un infortunio. Al ginocchio cade e si rialza, impresa contro l'argentino Serundolo, al quinto sette, oggi Sinner. Contro il bulgaro Dimitrov, poi in spalla la politica estera, Gaza, spiragli di intesa, Netanyahu, tregua, ma per ora a tempo leggiamo piccoli spiragli di dialogo nel conflitto in Medio Oriente, il premier Benjamin Netanyahu, favorevole a una tregua a tempo per permettere la liberazione degli ostaggi. Ma la destra oltransista minaccia di far saltare la stabilità del governo, segnali di apertura anche da parte di Hamas, terzo attore, gli Stati Uniti del presidente Joe Biden, che cercano di mediare tra le parti di la cronaca italiana, la lite poi oggettato Giada dal cavalcavia, la confessione ritrattata, l'ho seguita dopo una lite, Giada mi insultava, un trattolo ferrata per le ginocchia e l'ho sollevata oltre la ringhiera. Andrea Favero confessa e poi ritratta. Infine l'ho vista e speravo che Patrizia fosse viva, i genitori mi hanno chiesto del bracciale della collana, erano di Patrizia, così ci siamo abbracciati. Avrei voluto ritrovarla in vita, il racconto di Emanuel, il volontario della protezione civile. Certamente stiamo parlando del caso dei ragazzi annegati. Passiamo ad avvenire, il giornale dei Vescovi italiani, incontro ai migranti, Francesco, Papa Francesco, dichiara avvicinandoci a chi è nel bisogno, ci apriamo a Cristo e lui che bussa il cardinale Zerni, no alla propaganda o all'uso ideologico in vista delle elezioni europee. Nel messaggio per la giornata mondiale del rifugiato, il richiamo all'esodo e al cammino degli ebrei. Leggiamo alcune battute del pezzo di cardinale, Dio cammina con i migranti e molti di loro fanno esperienza del Dio compagno di viaggio, guida e ancora di salvezza. C'è un richiamo forte all'esodo, al cuore del messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, numero 110, che sarà celebrata domenica 29 settembre. L'incontro con il migrante, come ogni fratello e sorella che è nel bisogno, scrive infatti Francesco, è anche incontro con Cristo, ce l'ha detto lui stesso. E' lui che bussa alla nostra porta, affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito. Il cardinale Zerni, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, presentando il documento, ha esortato a non fare propaganda e ideologia sul tema dei migranti. E poi andiamo in Tunisia, nuova stretta contro le ONG, arrestati i soccorritori. La situazione qui sta precipitando, mette subito in chiaro all'inizio della conversazione una fonte ben informata che a Tunisi opera all'interno del sistema di protezione e assistenza di migranti e richiedenti asilo. Chiede di rimanere anonima perché il contesto si fa rischioso e certamente anche su avvenire il Medio Oriente, Israele nel governo diviso, uno spazio per la tregua e dunque trattative su durata e ostaggi. Anche su avvenire parla Tagliani, noi sinceri europeisti, Conte, no a vertici di guerra, la politica estera con relativi distinguo, chiave per i due leader. Interviste ad Antonio Tagliani e Giuseppe Conte, in vista delle europee, il ministro e leader di Forza Italia sottolinea che siamo fino in fondo europei, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare alla nostra identità italiana, io la penso come Mattarella. Un bis per von der Leyen, vedremo dopo il voto se il suo nome supererà il vaglio di Consiglio e Parlamento. L'unica cosa certa è che il Partito Popolare Europeo sarà decisivo, l'ex premier punta tutto sul nuovi conflitti, la pace si fa coltivando il dialogo tra le parti, Meloni invece si vanta di aver scommesso sulla vittoria militare contro la Russia. Noi non sosterremo una commissione con l'elmetto che non si impegna per la pace, il Movimento 5 Stelle sarà in un gruppo progressista e la nostra delegazione sarà decisiva contro i nazionalismi, così Giuseppe Conte. E poi missili statunitensi su terra russa e l'Europa si fortifica, i confini crescono, le barriere difensive, come vedete. Su Avvenire si parla anche di Ucraina e poi il bilancio sociale, il 20% di chi va alla Caritas lavora, le paritarie infanzia, più fondi nonostante i tagli, infine eletta la presidenta prima donna in Messico, si tratta di Claudia Scheinbaum. Andiamo sulla prima pagina della Repubblica, il giornale fondato da Eugenio Scalfari che dedica il titolo principale alla sfida delle urne, lo spettro del non voto. I sondaggisti prevedono un calo ulteriore dell'affluenza che per la prima volta può finire sotto il 50%, a trarne vantaggio possono essere i grandi partiti, dunque Partito Democratico e Fratelli d'Italia, appunto partiti più grandi e identitari. Dalimonte al Sud, scarsa affezione, Movimento 5 Stelle a rischio. E poi parla Monsignor Francesco Savino, Vicepresidente della CEI, sulle riforme noi vescovi non possiamo tacere. Queste le sue parole. Gli assenteisti potrebbero essere il primo partito alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Sondaggisti e politologi prevedono un calo dell'affluenza sotto il 50%. Il Vicepresidente della CEI nell'intervista noi vescovi preoccupati dalle riforme non possiamo tacere. E dunque si tratta anche di amministrative, non solo di europee, a vari prove tecniche di campo largo, modello De Caro a raccontare questa pagina è Giuliano Foschini. E poi in spalla Stefano Folli, il punto dove portano i radicalismi. L'ultima settimana della solita pessima campagna elettorale non è di sicuro migliore delle precedenti. La novità che ormai è stata segnata dalla più imprevedibile delle gaffa, ammesso che di questo si tratti. Ma al di là dei commenti, abbastanza imbarazzanti a destra, sferzanti a sinistra, la domanda è perché. E poi l'analisi Bruxelles verso il bipartitismo, lo scenario politico europeo sta per americanizzarsi, è ineluttabile e ormai è ospicabile perché a prescindere dal bilancio finale della battaglia alle europee in Parlamento le estreme destre diventeranno inevitabili. Lì non saranno maggioritarie ma peseranno. E poi il piano Albania, spreco di governo, le navi per il trasporto dei migranti costeranno 13 milioni. Anche su Repubblica in primo piano lo sport, il tennis con l'impresa di Djokovic che soffre ma vince e Sinner dunque deve attendere ancora. In spalla l'evento a Parigi, l'antisemitismo minaccia l'Europa. Maurizio Molinari, noi cittadini europei ci incontriamo a Parigi mentre le nostre democrazie stanno subendo la più grave ondata di intolleranza contro il popolo ebraico dalla fine della seconda guerra mondiale. L'antisemitismo prende di mira gli ebrei ma la storia ci insegna che rappresenta una minaccia contro tutti coloro che amano la libertà e la democrazia. E dunque, cari studenti, Israele non è un regime. Infine i consueti mappamondi. L'Ucraina colpisce oltre il confine russo con i missili statunitensi e Sheinbaum, prima presidenta del Messico. Passiamo alla stampa, il giornale di Torino. Attacco a Mattarella, governo in tilt. Questo è il titolo principale. Il timore di Fratelli d'Italia, tentativo di sabotare il premierato, le opposizioni. Troppi silenzi da Palazzo Chigi. Salvini intanto corregge il tiro. La Lega rispetta il presidente. Tagliani si smarca. Meloni, caso chiuso. E proprio la premier parla. Sono io l'unica censurata. Queste le parole raccolte dal giornalista Ilario Lombardo. E la polemica, certamente, giocare con la decima mass riduce la storia a farsa. Il generale Vannacci è candidato per la Lega alle europee. Pina Castiello, sottosegretare ai rapporti con il Parlamento. In quota Lega, entrambi evocano la decima mass. In spalla, l'intervista a Zagrebelsky. In corso, l'occupazione del potere. Le costituzioni si fanno quando i popoli sono sobri a valere per quando sono ubriachi. Questa, per Gustavo Zagrebelsky, è una buona definizione di costituzione che richiama, non è un caso che il presidente emerito della consulta lo faccia. Quel che va ripetendo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La carta è stata scritta per i tempi lunghi. Anche questo deve tenere a mente chi si propone di cambiarla. Presidente Zagrebelsky si aspettava un attacco a Mattarella da parte della Lega proprio il 2 giugno. Abbiamo avuto presidenti della Repubblica presunti golpisti, risponde, custodi della Costituzione che però la volevano cambiare. E finalmente, presidenti garanti della Costituzione come Mattarella, in quale tipo di presidente amiamo riconoscerci? Direi nell'ultimo, risponde il giornalista, e questo dice molto di chi lo attacca. La domanda era retorica e latente un conflitto, risponde Zagrebelsky. Il presidente della Repubblica non perde occasione per parlare della lungimiranza della Costituzione. Le leggi ordinarie nascono dalle esigenze che mutano le Costituzioni, guardano ai tempi lunghi. Infine, l'ultima domanda, e dunque risposta che leggiamo. Che cosa pensa del dibattito sulla riforma costituzionale? Che non c'è, risponde Zagrebelsky. A centropagina poi, signora Mexico, Scheinbaum presidente, dovrà guarire il paese dalla violenza. E dunque, le parole di Paco Taibo sottragga i giovani ai narcos. E poi, la politica a Guerini-Tarquinio, con la Nato più sicuri e perché Schlein sceglie il palco di Berlinguer, ha anche sulla stampa al Medio Oriente Gaza, Netanyahu frena la tregua offerta da Biden e l'Ucraina. Ma la pace di Zelensky non può ignorare Putin. In spalla, la salute pressing su Giorgetti, torna il decreto antiliste d'attesa, l'incognita risorse, l'educazione, se per 7 bimbi su 10 non c'è posto al nido, infine i diritti. Così, la Corte dei Conti ridà dignità a Eluana. Passiamo al sole 24 ore, il giornale di Confindustria, che certamente si occupa di economia, compagnie aeree utili a 30,5 miliardi. I profitti migliorano rispetto alle previsioni di dicembre e crescono dell'11,3% sul 2023. Per il 2024 si stimano record di ricavi 996 miliardi e di passeggeri 4,96 miliardi. Borse statunitensi ai limiti del fuorigiri, giù il petrolio spiazzato dall'OPEC, la redditività del Nasdaq inferiore al rendimento del Treasury decennale. A centropagina, smartwatch intelligenti capteranno il rischio ictus nel taglio alto, la politica estera, la guerra in Medio Oriente, Gaza, spiragli per un'intesa, Netanyahu, obiettivo distruggere Hamas. Passiamo alla prima pagina del resto del Carlino. Meloni, lasciate il colle fuori dalle beghe, la Premier sul caso Lega Quirinale, Salvini ha chiarito e la sinistra, che non rispetta Mattarella, tirandolo nel lagone politico. Giorgetti nega di voler fare il commissario europeo, gli obiettivi dei partiti per il voto, le percentuali dichiarate e quelle riservate. A centropagine, madre di Saman svolta in una foto, la polizia pakistana diffonde l'immagine del suo arresto, e in effetti la vediamo in foto, l'attivista un segnale contro la cultura della violenza. Leggiamo la polizia pakistana ha diffuso per la prima volta la foto di Shaheen, la madre condannata all'ergastolo per l'omicidio di Saman Abbas, uccisa nel 2021 a Novellara, perché rifiutava un matrimonio combinato. La donna è stata arrestata giovedì in Pakistan, sul suo conto pende una richiesta di estradizione, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha incontrato i colleghi pakistani e ha espresso gratitudine per il fermo. In spalla Hamas e Israele, caute aperture, intesa più vicina per la tregua e poi auto elettriche, l'eco bonus subito esaurito, gli incentivi sono finiti in nove ore per il resto del Carlino e nel taglio basso il papà di Eluana fu ostacolato, condannato l'ex digi della sanità. Esce dall'asilo bimba falciata e è accaduto a Brescia, una tragedia in cui purtroppo perde la vita una bambina di 18 mesi. I numeri 10 caricano l'Italia infine da Rivera a Baggio e Totti. Passiamo alla prima pagina dell'eco di Bergamo, il Papa Giovanni avrà l'ottava torre assegnati dalla regione i 100 milioni di euro necessari per l'ampliamento dell'ospedale e dunque scalomerci priorità per Bergamo. Leggiamo uno scalomerci adeguato alla logistica internazionale, rientra tra le 10 azioni imprescindibili per la competitività del territorio bergamasco e quanto emerge dal documento Infrastrutture, Logistica e Sviluppo Equilibrato del Territorio che cita anche la nuova cremasca approvato ieri dal tavolo Bergamo 2030. Rimaniamo a nord, lo facciamo con la provincia di Como, a centropagina la cronaca coltellate non per difendersi, baby gang, tentato omicidio. Cantù la rissa in piazza Garibaldi con tre feriti, Como, lite abbottigliate. Ancora la cronaca sulla prima pagina della provincia di Lecco, allarme e violenza in centro, sono segnali inquietanti, il caso del bossolo in via Cavour e il centrodestra chiede misure forti. E dunque andiamo a sud, lo facciamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Intanto gli ultimi comizi, tutti big in Puglia, arrivano Lollobrigida e Schlein, Bari volano gli stracci tra i due candidati a sinistra. In spalla la transizione possibile, centrale elettrica, la riconversione cambierà a Brindisi e poi a centropagina la parentopoli barese di Sandrino e Alfonsino partono nuove indagini nelle aziende comunali dopo gli arresti di Cataldo e Pisicchio. Dunque questa l'inchiesta, la cronaca giudiziaria affrontata da Scagliarini, un concorso di Rete Gas Bari, società partecipata del Comune, dal Comune, vinto da parenti di Alfonsino Pisicchio e Sandro Cataldo, i due esponenti del centro-sinistra arrestati ad aprile nell'ambito di due distinte inchieste. La finanza ha acquisito gli atti su delega della Procura di Bari che sta approfondendo l'ipotesi relativa ad assunzioni nelle società pubbliche come contropartita di favore elettorali. Nel mirino anche l'agenzia regionale Adisu e la STP di Trani. Eolico offshore, patto tra i porti per lo sviluppo e nel taglio basso. Intanto il calcio, azzurri test con la Turchia, ritiro con i fantastici numeri 10, si va verso gli europei. Oggi l'amichevole a Bologna alle ore 21. In foto vediamo il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa prima dell'amichevole di Bologna contro la Turchia. E poi la cronaca dalle province. Taranto prima non vuole la figlia, poi la vende. Sei mesi a un marocchino, Monopoli guarda programmi in tv e sullo schermo c'è il suo truffatore. Infine Trani, i ragazzini devastano giostre, i genitori non li fermano e dunque denunciati. Rimaniamo a sud, lo facciamo con l'edicola del sud. Precariato e salari da fame, pugliesi con le tasche vuote, la CGL analizza il settore privato, il 42% dei residenti in regione vive con meno di 10 mila euro. L'ordi l'anno, il possibile rimedio, investire nei settori innovativi. A centropagina la politica, Conte e la forgia al voto contro la corruzione. In foto vediamo proprio il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, che dunque ribadisce il sostegno all'avvocato e proteste e fischi per Salvini e la Lega. Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini ieri a Bari per tirare la volata al suo candidato sindaco Fabio Romito è stato accolto da fischi e proteste da parte di un gruppo di studenti. Il ministro dei trasporti è stato contestato per il sostegno all'autonomia differenziata. Andiamo a Roma, lo facciamo con il messaggero. Meloni con questa Unione europea, addio all'assegno unico, la Premier è la sinistra che manca di rispetto al capo dello Stato, parla Michel, ora l'Unione ha bisogno di una guida imparziale. L'intervista Matteo Salvini, pericolosa alla sovranità dell'Europa, Mattarella alla stima della Lega. Ma parla anche la leader del Partito Democratico, Schlein, nella Nato, ma in autonomia. In spalla il caso vietato gridare decima, gli incursori protestano, non mostrano mai il loro volto e nel nome delle missioni più difficili in patria e all'estero hanno annullato quasi del tutto la loro identità. Riuscire a parlare con gli incursori della Marina è un'operazione impossibile, più che speciale, ma stavolta qualcuno rompe il silenzio. A centropagina azzurri la carica dei dieci del Piero Baggio Rivera, Antonioni e Totti a Coverciano. E poi la tregua fragile di Netanyahu si alcessate il fuoco, Bibi, la nostra priorità è liberare gli ostaggi. Poi si vedrà Hamas, gli Stati Uniti ci diano garanzie svolta di Netanyahu si alcessate il fuoco, ma la tregua è fragile, il Presidente è pronto a trattare solo dopo la liberazione degli ostaggi. Hamas vuole la garanzia internazionale sulla fine dell'osterità sulla striscia. Gli israeliani intanto portano avanti le operazioni Arafa anche se non impiegano due divisioni per non indispettire gli Stati Uniti e la strategia ai raid di Kiev con armi degli Stati Uniti in terra russa. Passiamo al mattino, il giornale della campagna di Napoli, l'ultimo tesoro di Pompei, ecco la casa degli schiavi carpentieri scoperti reperti unici di mobili e utensili, lo scavo sottratto ai tombaroli nell'area archeologica. E la politica? Meloni bene i chiarimenti, no a polemiche sul 2 giugno, la Premier è la sinistra che non rispetta il Colle e anche sul mattino la politica estera a Netanyahu, sia la tregua per gli ostaggi, Mosca attacchi in Russia con armi degli Stati Uniti. Nel taglio basso fitto il problema dei fondi non è la firma ma il merito, il ministro a Napoli e il caso Campania. Chiudiamo questa rassegna stampa con il quotidiano del Sud, furie riforme, Italia in ansia, le preoccupazioni del Quirinale, l'autonomia differenziata mette a rischio anche la costruzione della nuova Europa, gli staterelli italiani contraddicono la spinta per una unione più forte. Con questo titolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, a me non resta altro che augurarvi buona giornata e buon proseguimento con i programmi della rete.